Nella storia della resistenza italiana Montorio Albomano ha rappresentato 72 anni fa una tra le basi più attive dei partigiani abruzzesi. Una tradizione di democrazia e libertà che il popolo montoriese non ha mai dimenticato e che ogni anno intende rinnovare soprattutto a favore delle nuove generazioni. Così il 25 aprile diventa l'occasione per organizzare una settimana di celebrazioni sulla cultura della resistenza organizzata dal comune di Montorio e dall'Ampi. Montorio è stata sia durante il ventennio ma anche durante gli anni della resistenza una cellula attiva di antifascismo. Sono molti i personaggi che sono stati protagonisti della resistenza e dell'antifascismo a Montorio. Primo fra tutti lo stesso Ercole Vincenzo Orsini che pur essendo di Teramo ha mantenuto negli anni della dittatura dei rapporti costanti con i montorriesi che purtroppo poi si sono conclusi col suo assassino proprio a Montorio. Una settimana di eventi culturali dunque dal 18 al 25 aprile a Montorio durante la quale si terranno rappresentazioni teatrali e discussioni pubbliche sui temi della guerra ai civili, sulle stragi di Nermi in Italia e in Abruzzo durante la seconda guerra mondiale. E a sentirli questi argomenti non sembrano poi così obsoleti visto quello che sta accadendo oggi nel Mediterraneo. Ma i ragazzi lo sanno che cos'è il 25 aprile? Beh si lavora soprattutto per quello, l'amministrazione appoggia questa manifestazione, questo aspettando il 25 proprio per quello, per il ricordo, per fare in modo che sia i più giovani ma anche i più grandi ricordino questo momento importante per la storia italiana. Montorio dunque quest'anno come ricorda il 25 aprile? Sarà una settimana intensa, l'AMPI ci ha proposto di arrivare al 25 con due eventi, noi siamo contenti di patrocinarlo e aiutarli nella realizzazione degli stessi perché con delle attività specifiche si riesce secondo me ad arrivare di più alle persone e soprattutto come mi diceva prima ai più giovani. Una rappresentazione teatrale che parla comunque della Brigata Maiella che è stata l'ultima a cedere il passo è chiaro che è un insegnamento per i più giovani, è un ricordo per chi è più grande affinché si resista e ci sia sempre questa vena di resistenza nelle corde di chi vive nei nostri territori ma tutto il mondo soprattutto per quello che stiamo vivendo oggigiorno non si riesce a imparare proprio dalla storia.